In collaborazione con la parrocchia del Carmelo e della confraternita Maria Santissima del Carmelo, la partenza dei Remaggi dalla piazza Umberto di Mussomeli in direzione della capanna con annesso presepe allestito in piazza della Repubblica. La parrocchia del Carmelo e della confraternita Maria Santissima del Carmelo, la parrocchia del Carmelo e della confraternita Maria Santissima del Carmelo e della confr conservative Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.